Siamo su Stacklands, è un gioco di carte di sopravvivenza. Questa schermata è stracarina comunque, disegnato così è meraviglioso. Inizia nuova partita. Modalità pacifica? No. Ci siamo. Cosa abbiamo qui? Abbiamo 0 su 0 di cibo, monete, e questo è il limite di carte. Il tuo limite attuale di carte è di 20, hai 0 carte. Qui abbiamo le missioni, dovremmo aprire il pacchetto che abbiamo qui. Booster pack. Abbiamo un abitante, un cespuglio di bacche, è una roccia però c'è scritto 0. Sembra robusta ma può essere colpita, un cespuglio con delle bacche deliziose, un pioniere laborioso e velocità di attacco 2, probabilità di successo 60%, legno, una semplice risorsa, moneta. E la missione 1 l'abbiamo fatta. Trascina l'abitante sopra il cespuglio di bacche, così in teoria lui va a prendersi le bacche. Ha ottenuto una bacca, ok. Se ne sta prendendo un botto di bacche adesso. Ok, da un cespuglio ha tirato fuori tre bacche quindi, colpisce una roccia. Quindi immagina di dover trascinare l'abitante sulla roccia. Se si velocizza, nuovo pacchetto sbloccato, il pacchetto umili, origini e ora disponibile. Ok, è ora di mangiare sfama gli abitanti. Ok, cosa mangeranno gli abitanti? Ah, mangiano le bacche. Abbiamo solo un abitante, ha mangiato due bacche questo. Ok, per l'una penso si intende giorno. L'una 1, giorno 1. Inizio della luna 2. Forse si può vendere la pietra e anche la pietra focaia, ma forse non mi conviene venderla. Adesso ho due monete, vedete? Abbiamo ottenuto un bastone, magari lo teniamo con le risorse intanto. Possiamo fare bastone e pietra focaia e ottenere qualcosa? Sì, sta craftando qualcosa. Ah, posso zoomare fuori, ok, fighissimo. Compro il pacchetto umili origini, costa tre monete, noi ne abbiamo due, quindi dovremmo vendere qualcos'altro. Falò! Può essere usato per cucinare cibi, sembra caldo e accogliente. Sfama gli abitanti. Cosa sta mangiando? Ah, l'ultima bacca, ok. Abbiamo finito il cibo. No, non... Com'è morto? Ma è morto così? Ho già perso. È durato neanche due giorni il personaggio. Rifacciamo. È normale. Abitante. C'è spulio di bacche, roccia, legno, moneta. Vai a raccogliere le bacche. La moneta ce l'abbiamo. Legno, roccia. Questa roba la possiamo vendere? Sì, anche la roccia. I soldi non mi ha dato vendendo la roccia. Potremmo vendere una bacca, forse. Sì, abbiamo tre monete. Umili origini, sblocchiamo questo. Sta mangiando. Sono tutti nutriti, va bene. Qui abbiamo un nuovo pacchetto. Cosa abbiamo qua dentro? Pezzo di legno. C'è spulio di bacche. Albero, ok. Dobbiamo colpire l'albero adesso. Lasciamo fare lui che si raccoglie le bacche dal c'è spulio di bacche, che è importante. Ma dobbiamo scoprire che cosa ci dà l'albero. E coltivo un c'è spulio di bacche, dice. Cosa farà con l'albero, vediamo. Legno. E con il legno cosa possiamo ottenere? Bisogna vedere, non possiamo sprecare tutto adesso. Le bacche, il legno, un abitante, ok. Siamo agli abitanti, mangia. Ha mangiato. Giorno 3. Non abbiamo monete. Vediamo se lui riesce a craftare qualcosa con il legno. Mi ha dato le assi. Un robusto materiale da costruzione. Il problema è che abbiamo bisogno di un altro pezzo di cibo. No, e muore adesso. Ma dai! Ok, rifacciamo. Prova numero 3. Vai, ce la possiamo fare. Umano, merdoso. C'è spulio di bacche, roccia, legno, moneta. La moneta la mettiamo subito qua. C'è spulio di bacche. La roccia stavolta forse non ci conviene vendere. Vediamo cosa ottiene dalla roccia. Ah, era la pietra focaia. Ok, pietra focaia più legno e rafalò. Pietra. Il 2 significa soldi. Questo venduto. Posso comprare questo. Terreno. Uh, buono! C'è spulio di bacche. Albero. Terreno vuol dire che possiamo coltivare le bacche adesso. Tu intanto fai questo. La mela abbiamo ottenuto. Forse era meglio piantare le mele. C'è spulio di bacche, vai bro. La mela sfama 2. Posso annullarlo? Sì, vediamo se posso mettere le mele qui. Sì, mi sa che si può. Questo ci sta mettendo un po'. Ricordatevi che mangia sempre 2 per volta. C'ha bisogno di 2 di cibo per sfamarsi lui. 2 bacche, 2 bacche, 1 mela, 1 mela. Il giorno 2 è arrivato il momento di mangiare. Si è mangiato 2 bacche. Ok. Il giorno 3, finalmente il nostro record questo. Nuovo pacchetto 4 monete. Mangia. Ho mangiato una mela, perfetto. Giorno 4. Qui abbiamo un altro cespoglio di bacche. Fine. 4 bacche. Quindi questo vuol dire che abbiamo da mangiare per un giorno. Giorno 2, giorno 3. Ok, giorno 4 si mangia. Terreno quasi finito. Abbiamo ottenuto un melo. Ma il terreno rimane. Ma è una figata. Poi questo un secondo. Abbiamo ottenuto il melo. Che mi dà? Mi dà le mele. Allora le bacche sono inutili. Dovremmo usare solo le mele adesso. Guarda quante mele. Vendendo due mele potrei ottenere già questo pacchetto. Ma uno dobbiamo lasciarlo per forza. Piantiamo una mela qua, così abbiamo un altro albero. Queste due le possiamo vendere. Vendi. Vendi. Adesso noi abbiamo abbastanza soldi per comprarci un nuovo pacchetto. Chiamato alla ricerca della saggezza. Vediamo cosa sblocchiamo. Idea e coltivazione. Pietra fuocaia. Buono. Idea a cava. Cespuglio di bacche. Cibo in più. E queste sono cose nuove che impareremo, mi sa. Giorno 5 sfama all'abitante. Come lo chiamiamo questo, ragazzi? Giorno 6. Quasi due giorni ci mette a coltivare le mele. Qui però per la cava dice. 3 di pietra, 1 di legno e un abitante. Una fonte illimitata di pietra. Porca miseria, una fonte illimitata di pietra? Buono. Abbiamo un altro melo. Adesso andiamo a raccogliere le mele. Dove metto le idee a coltivazione? Boh, le metto qua. Sono un po' inutili. Non so a cosa serve tenerle qua, sinceramente. Ci serve completare altre 5 missioni per sbloccare questo pacchetto. Sfama, mangia. Farmiamo le mele, ragazzi. Giorno 8, sì! Abbiamo un altro melo, vai. No, mele e bacca cosa sta facendo? Macedonia! Guardate quanto costa e quanto ti sfama. Abbiamo finito le bacche, però. Mangia, bro. La vendiamo? Uh, mercante itinerante. Dammi 5 monete e ti darò una carta. Eh, dammi... Adesso stai calmo. No, aspettiamo. Io aspetto. Io comprerei questo. Asse, ok. Pietra, buono. Giardino! E c'è spuglia di bacche, buono. Noi possiamo ottenere altre bacche e farci la macedonia. Cos'è il giardino? È un semplice giardino per la coltivazione del cibo. Mangia. È apparso uno strano portale? Oh, oh. Giorno 12. Questo strano portale si sta per aprire. Ragazzi, perché ho paura? Secondo me arriveranno dei mostri. Abbiamo due monete. Potremmo vendere una macedonia, però. Vendendo una macedonia... Uh, ratti. Oh! Oh, oh. Al giorno 12 siamo morti. Abitante. C'è spuglia di bacche. Roccia, legno, moneta. Legno e roccia, cos'è che si faceva? Servono... Non possiamo vendere queste cose. Le cose sbloccate comunque rimangono. Per la cava ci voleva... Pietra, legno, abitante. Pietra si ottiene dalla roccia, ovviamente. Però di pietra mi servono tre. Mi ha dato una moneta. Ok, venderei una bacca e compriamo umili origini. La bacca rimane da mangiare. Qui abbiamo un albero. C'è spuglia di bacche. Albero. Così possiamo farci una macedonia almeno. Sì, ci serve il terreno per forza. Abbiamo un altro di legno, buono. Record 12 giorni per ora. Noi ci faremo adesso una macedonia, così. Bacca e mela, una macedonia. Legno lo lascio un attimo. Macedonia c'è. Ok. Dov'è che possiamo ottenere il terreno? Aspetta, ma qui adesso possiamo ottenere anche il ratto. C'è scritto che tra le carte potrebbe uscire anche un ratto. Io comprirei umili origini. No! Un ratto di merda. Idea, casa! Via, scappa! Vendiamo la macedonia e compriamo questo. Idea, lancia. Un legno, due bastoni. Cava, tre pietra, un legno. Abbiamo finito le scorte di cibo. Oddio, spero che non arrivi da me. Per farci la cava, per ottenere la pietra infinita. Yes! Buono l'albero. Dai, veloce, che ci servono le mele. Bastone. Quando lo uccido? Lo potrei uccidere in realtà, è solo uno. Un altro bastone. Come si fa la lancia? Un legno, due bastoni. Non abbiamo il legno. Oh, si vendono le idee! Prole. Una casa, due abitanti. Pietra, gallina. Albero. Due bastoni. Mi serve il legno. Per la lancia. Ragazzi, però, se per finire il giorno noi non abbiamo il cibo. Sto mangiando. Dai, che c'è l'albero lì delle mele. Ma vaffanculo, vai! Ok, però non è un problema, perché ripartiamo. Tentativo numero 5, non mi ricordo. Partiamo già con tutte le idee pronte, quindi si muore, ma non si riparte mai da zero, diciamo. Abitante. Cespola di bacche, roccia, legno, moneta. Cespola di bacche. Facciamo subito il cibo. Forse se avesse ucciso il ratto avrei ottenuto il cibo, non lo so. La lancia. Si faceva con uno di legno. Gli servono due bastoncini che si ottengono dagli alberi, in teoria. Però abbiamo solo uno. Mangia. Buonissimo. Molto buona la cena. Pietra. Roccia. Albero. Ottimo. Proprio quello che mi serviva. Per fare la lancia erano due bastoni e un legno. Lancia. Come si usa? Yes! Raccolta e semina. Dieci monete. Ci siamo evoluti, siamo più forti! Ok, ho tenuto la cava. Intanto vai a farmare. Su, 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 veloce. Abbiamo il nuovo pacchetto. Il booster pack. Una bacca. Gallina! Baule di monete. Una moneta, due di legno. La gallina che fa? Va in giro? Roccia. Probabilità di successo... E quindi anche le galline attaccano, solo che la probabilità di successo è così bassa che probabilmente verranno divorate dai predatori. Ma la posso ammazzare io forse per cucinarmela? Che mi sposta tutte le carte sta gallina? Cacca? Cosa serve la cacca? Sembra puzzolente. La posso lanciare addosso a qualcuno? Fertilizzante forse, sì, forse sì. Strano portale, oh cazzo. Ok ragazzi, siamo al giorno 12. C'è anche il mercante. Lui vuole... Vuole 10 monete il mercante. Dai, goblin! Sta ammazzando le galline! Ammazzalo! No, uccidilo! Sì cazzo! Bastardo morto! Come mi curo? Carne cruda, mi serve un falò. Troppe carte, non sto capendo niente. Falò pronto. Cuciniamo la carne cruda. Abbiamo la casa adesso. Abbiamo la carne cotta, perfetto. Il falò la cava a casa. Casa cosa fa? Un bel posto in cui vivere. Capanno. Aumenta di 4 il tuo limite di carte. Il giardino voglio fare io. Servono 2 di pietra e 2 di legno. E che devo cercare di craftare più roba. Abbiamo un altro abitante! Un coniglio! Sofì c'è macchina da cacca? Lui ci droppa la cacca ragazzi. Quanto caga sto coniglio? Oh mio Dio, sta per finire il giorno. Abbiamo 10 carte in più praticamente. Oh oh! Vendi nuove carte! No! Vabbè vendiamo l'osso. Pietra focaia dai, però la pietra focaia è preziosa. Secondo me. Legno assolutamente no. Un mattone lo vendo. La cacca possiamo farla sempre in più. Vabbè possiamo vendere 3 pietre focaie. Giorno 18! E' apparso portale! Ci serve un deposito di legname per avere una fonte infinita di legno. E quindi noi faremo come prima cosa quello. Vai! Oh! I goblin! Cosa? Aspetta un attimo! Pausa 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 pausa! Lancia! Un legno e due bastoni. Abbiamo finito il legno! No aspetta! Ce l'abbiamo qua! Non è che te lo riesci a farmare veloce? Un pezzo di legno? Ti prego non morire! Ammazzalo! Un legno! Aspetta! Pausa pausa pausa! Lancia! Ti prego! L'ha ucciso! E' potentissimo! Non ci credo! Vai intanto noi ci facciamo una lancia per lui. Ma quante monete abbiamo? Guardate! Lancia bro! Tieni! Yeah! Un altro! Deposito di legname ce l'abbiamo già. La cava ce l'abbiamo. Ecco una cosa che non abbiamo ancora fatto sono i mattoni e le assi. Con il mattone, robusto materiale da costruzione, idem le assi. Forse con quello ci possiamo fare qualcos'altro di figo. Ma io direi che questo sarebbe un perfetto momento per fermarsi. Siamo arrivati al giorno 22 al quinto tentativo con 32 di monete. Abbiamo un pochino di cibo ma non tantissimo, abbastanza un problema quello. Ecco perché ci servirebbe un altro giardino. Ma con tutte le monete che abbiamo dovremmo prendere ancora questo pacchetto qua, logica e ragione, e vedere un po' che succede. Cucina curiosa l'abbiamo già preso, mi sa. Sì, che abbiamo ottenuto fungo, carote e bla bla bla. E vediamo la prossima volta, logica e ragione. Così sarà più interessante. Stupendo sto gioco, vi è piaciuto? A me è un botto. Molto molto bello, veramente. Grazie. 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 Grazie.